A Diego Dominguez, leggenda del rugby internazionale, viene conferito oggi il sigillo d'Ateneo da parte dell'Università degli Studi di Urbino. È un percorso che sta facendo l'Università degli Studi attraverso dei personaggi che possono dare delle indicazioni sulla vita, sulla crescita personale e individuale degli studenti. La domanda è, in che modo valori di cui ha parlato l'Alezzio Magistralis come l'aggressività, come l'agonismo, possono essere portati fuori dal campo e diventare valori per la crescita personale? Con l'esempio, con l'esempio, il rugby senza crescita non puoi giocare, è uno sporco che non puoi giocare, però devi avere equilibrio, non puoi fare eccessi, se no viene penalizzato fuori il campo, penalizzi la squadra. Nella vita è uguale, è uguale, tu fai un eccesso di aggressività, chi penalizzi? E te stesso prima di tutto, penalizzi la famiglia che ci sta dietro, penalizzi i tuoi amici, penalizzi tutto. Quindi queste cose bisogna anticiparle, bisogna spiegare con l'esempio, con i gesti, come l'aggressività deve essere usata. Abbiamo organizzato questo sigillo dell'Ateneo con l'Università d'Urbino come un momento di riconoscimento ad uno dei più prestigiosi e importanti giocatori di rugby italiani, Diego Dominguez, che ha anche origini marchigiane ed è uno sportivo di alto livello vicino al nostro club. Ci ha fatto molto piacere che l'Università abbia raccolto questo invito perché credo che sia importante anche per l'Università avvicinarsi al mondo del rugby. Soprattutto in uno sport come il rugby, che è un po' sottovalutato, ma che ancora ha i veri valori dello sport, quindi in cui per raggiungere la meta bisogna lavorare sodo, bisogna collaborare con i propri colleghi, molto più di quanto in avviene in altri sport che sono individuali o in quali spesso anche l'essere la star da dei vantaggi che forse nel rugby sono meno evidenti. Quindi ci fa molto piacere che sia venuto a trovarci proprio perché il messaggio che viene dato è un messaggio di valori positivi. Veramente bello, io ci tengo tantissimo a questa terra, a questa regione, sono venuto tantissime volte. Io sono originario di Matelica, la mia famiglia è di là, la mia famiglia è materna. E niente, sono tornato tante volte, ogni volta che posso torno, Urbino è la prima volta, essere in un'università così prestigiosa, una delle più antiche d'Italia, per me è enorme, è veramente un onore. Sono contento, è una cosa che mi porterò a vita a questo momento. Nella mia vita lo porterò fra i momenti più belli che ho avuto, oltre che entrare in campo su qualche partito importante, qualche vittoria importante, queste sono cose che tu le tocchi con la mano, capito? È bellissimo.